Ciao amici e ben ritrovati Tazzitto Ciao amici e ben ritro... Non muoverti Io non mi sono mosso Non parla Ti materializzati Ciao amici e ben ritrovati con il playthrough di Pokémon Platino E adesso tagliamo gli alberi Ok Siamo dei bravi tagliaregna JeanTheGreninjaCP chiede Cosa ne pensate di ScatterbugShiny? Io ho creato un culto in suo onore Che ognuno ha i suoi fetish Sì Quello per Scatterbug mi è un po' ignoto però Eh vabbè sarà uno nuovo Darky701 chiede Fondereste una onlus al fine di permettere ai vecchi di tutto il mondo di andare a Monte Carlo Per far vedere loro i numerosi cantieri presenti Dal momento che il Principato è una città in continuo mutamento per permettere a sempre più gente di abitarci Non sapevo ci fossero tanti cantieri a Monte Carlo Ora lo sappiamo e sai cosa si fa in questi casi? Eh io faccio schifo tu Andiamo a quartare i cantieri come i vecchi Come i vecchi Porco del Goldfox98 chiede Avete apprezzato Diego Brando? Sì È un bel personaggio E tu? Plesiosauri Screech Puschio Ma almeno è un tagliaerba Scusa Scusa? Non ho capito Ah Gesù Allora Dan Kaneki Avete mai visto Berserk e Bleach? E se sì vi sono piaciuti? Berserk e Bleach? Sì Aspetta Li avete visti Quindi immagino L'animo L'animo fa cagare di Berserk Quello in CGI Tanto cagare Comunque sì ho visto gli spezzoni Ma Berserk con il manga Sono in pari Sto aspettando che esca il nuovo capitolo a dicembre Perché a quanto pare Si è preso una pausa di riflessione Su come uccidere Griffith Idem E Bleach non l'ho visto Bleach Io ho letto sia il manga che ho visto l'anime È bello fino alla parte Degli arrancar Poi Cubo si ricorda di essere un Un coso Un mangaka Porca puttana e brutti colpi Un mangaka di quarto ordine Quindi fa stronzato Marco Tosoni Chiede Avete mai provato Dark Souls con la tastiera? No e non ci tengo Devo farlo col doc Minchia mi sta abbattendo la gente La gente Che palio Perché è notte sferze e quindi tira i brutti colpi No è morto anche Bidu E vabbè faccio Pico Acto 3 Ok Ce l'ho un antidoto Non ce l'ho Ne ho due Quindi su Ave Maria Oddio Adesso la metto la bici Che palle Comunque abbiamo battuto le Il Team Galassia Adesso stiamo andando la pista ciclable Io Ho rimosso per sbaglio il commento di Fredo Sei un pezzo di merda Questo Nokia è di merda Non prende Il touch Non prende bene il touch Comunque l'avevo letta per fortuna Allora Non abbiamo visto la chat In Pokémon e MMO Però ti posso dire che Durante la Registrazione Poi Durante il rendering del video Costui si è accorto appunto Che ci fossi anche tu Quindi Scusa non l'abbiamo fatto apposta A non salutarti E che semplicemente La chat li fa parecchio schifo Perché non c'è una chat privata Ah perché Qualcos'altro invece è fatto bene Ah no Tutta una merda Scusa ci eravamo impegnati a guardare Le cose brutte E tu non eri una cosa brutta Quindi vabbè Nikin che chiede Ma se spammassi domande a caso nei commenti No Però l'ha fatto Il dottor Calcestruzzo chiede Battaglia di Jojo preferita Ma quindi potremmo Potremmo tranquillamente Ridefinire questo canale Come un canale di Jojo Ormai Comunque penso Joseph contro Wamu Joske contro Akira Con redotto Ciri Peppa Ciri Peppa Allora Vado al centro pacone per curarmi Intanto perché stavo morendo Ma basta Gesù chiede Cosa ne pensate Della quinta generazione Bella E' bella Molto sottovalutata Certo Non tutto è il Fatto bene Secondo me Però Non è lo schifo Che dipingono Troppe persone Lagging War Chiede Quanto è gay Mirvo Da uno a Paed? Inizia a scappare Ah Chiedilo a lui No non per altro Perché Paed Poi ti picchia Per davvero Poi Come avete avuto Il coraggio Di farmi admin Del vostro canale? Non avevo voglia Ogni volta Di stare a mettere Il link del video E quindi Mi hanno preso il primo Che passasse No scherzo E che almeno tu Ci sei sempre E non ti dimentichi Come noi Da Maverick Blast Chiede Stanno facendo Un hack di Smeraldo Con il vostro amato Lino Come protagonista Che ne pensate? Tanto già Smeraldo Fa cagare Quindi Non riep Emilio Errana Cosa ne pensate Di bello figo Che manda Gli messicani Come Donald Trump E il bus? Ti prego È comunque Una canzone bellissima Spada Belforma Che era Kei Faradai Fino all'altro giorno Vabbè Chiede Che ne pensate di Siamo diventati L'ufficio Anagrafe Esatto Cosa ne pensate Di Italia? Lo sapete no? Quell'anime Con le nazioni gay Oh Gesù Esiste ancora Non l'ho mai visto Per fortuna Io ho visto Un episodio E mi sono andato A lavare gli occhi Wow Fucso Ah scusa Mirvo chiede Fucso È Napo? Ok Seconda domanda Sempre sua Vi dà fastidio Se dico primo Sì Sos Poi Crazy Manu Chiede Se un umano Procrea Con un Pokémon Che esce? Probabilmente Apple È un insulto O un complimento? Non lo so Christian Corsi Chiede Mi comprate una giraffa? Vello Zoe Rubane una Non ho capito E sono finite Le domande Perché gli altri Erano commenti No Ah Ok Mirvo Quel simpatico Pazzu Ah Beh Pare Va Va Beh Pare Para Unge E Pare Be 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 Andiamo Alla Pale Ah Non dobbiamo andare Prima All'arena Delle gare Non l'ho Già Fatto Oddio E Ho Vinciuto Io ti odio Perché so Già Che Perderò In partenza Ok Chi è il primo Pokémon Comunque Dasko Uh Ombra Artili No Non dirlo Non dirlo Porti male Dopo Fammi questo Piacere Ok Grazie Ho perso Guarda come sono Forte Se non Se non mi facesse Store Bajo E Evviva Ciao Ciao! Grazie a tutti!